San Paolo incontra Cristo di Claudia del Valle La conversione di San Paolo, che la Chiesa celebra con festa particolare, rappresenta senza alcun dubbio uno dei più gloriosi trionfi della grazia divina. Giudeo della tribù di Beniamino, circonciso l'ottavo giorno dopo la sua nascita, prese il nome di Saulo. Apparteneva, come il padre, alla setta dei farisei. Nemico accanito di Cristo, Paolo di Tarso, persecutore dei cristiani, sulla via di Damasco incontra Cristo. Gli atti riportano la celebre frase pronunciata dal Signore, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Il racconto che Paolo stesso dà dell'apparizione del Risorto rivela una profonda ricerca interiore, secondo le vocazioni con versioni profetiche, dell'Antico Testamento, foriere in genere, anche d'una particolare missione. Scrive dunque l'Apostolo delle Genti nella lettera ai Galati. Quando colui che, fin dal seno materno, mi ha messo a parte e richiamato alla sua grazia, si degnò di rivelarmi suo figlio affinché io possa annunciarlo fra i pagani subito, mi recai in Arabia. Dopo l'incontro col Nazareno, l'Apostolo si lancia alla conquista del mondo pagano. Tutte le nazioni dovevano imparare da lui che Gesù è il figlio di Dio e l'unico salvatore del mondo. La grazia di Dio aveva operato in lui per formare il vaso di elezione, l'Apostolo delle Genti per eccellenza. Di lui, San Giovanni Crisostomo scrive, Paolo sopportò ogni cosa per amore di Cristo. Esulta di fronte ai pericoli incombenti, alle offese e a qualsiasi ingiuria. Aggiunge che queste sono le armi della giustizia e mostra come proprio di qui gli venga il maggior frutto e sia vittorioso dei nemici. Battuto ovunque con verghe, colpito da ingiuri e insulti, si comporta come se celebrasse trionfi gloriosi o elevasse in alto trofei. Per questo, animato dal suo zelo di Apostolo, gradiva di più l'altrui freddezza e le ingiurie che l'onore, di cui invece noi siamo così avidi. Preferiva la morte alla vita, la povertà alla ricchezza e desiderava assai di più la fatica che non il riposo. Godere dell'amore di Cristo era il culmine delle sue aspirazioni e, godendo di questo suo tesoro, si sentiva più felice di tutti. Senza di esso, al contrario, nulla per lui significava l'amicizia dei potenti e dei principi. Preferiva essere l'ultimo di tutti, anzi un condannato, però con l'amore di Cristo, piuttosto che trovarsi fra i più grandi e i più potenti del mondo, ma privo di quel tesoro. Il più grande ed unico tormento per lui sarebbe stato perdere questo amore, ciò sarebbe stato per lui la genna, l'unica sola pena, il più grande e il più insopportabile dei supplizi. Il godere dell'amore di Cristo era per lui tutto, vita, mondo, condizioni angeliche, presente, presente, futuro e ogni altro bene. All'infuori di questo niente reputava bello, niente gioioso. Ecco perché guardava le cose sensibili come ad erba avvizzita. Gli stessi tiranni e le rivoluzioni di popoli perdevano ogni mordente. Pensava, infine, che la morte, la sofferenza e i mille supplizi diventassero come giochi da bambini quando si trattava di sopportarli per Cristo. La conversione di Paolo rivela la potenza della grazia che sovrabbonda dove ha abbondato il peccato. La svolta decisiva della sua vita si compie sulla via di Damasco, dove egli scopre il mistero della passione di Cristo che si rinnova nelle sue membra. Egli stesso, perseguitato per Cristo, dirà, completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Benedetto XVI, alla fine di una catechesi sulla conversione di San Paolo, affermò. Il cristianesimo non è una nuova filosofia o una nuova morale. Cristiani siamo soltanto se incontriamo Cristo. Certamente Egli non si mostra a noi in questo modo irresistibile, luminoso, come ha fatto con Paolo per farne l'apostolo di tutte le genti. Ma anche noi possiamo incontrare Cristo nella lettura della Sacra Scrittura, nella preghiera, nella vita liturgica della Chiesa. Possiamo toccare il cuore di Cristo e sentire che Egli tocca il nostro. Solo in questa relazione personale con Cristo, solo in questo incontro con il Risorto diventiamo realmente cristiani. E così si apre la nostra ragione, si apre tutta la saggezza di Cristo e tutta la ricchezza della verità. Quindi preghiamo il Signore perché ci illumini, perché ci doni nel nostro mondo l'incontro con la sua presenza e così ci dia una fede vivace, un cuore aperto, una grande carità per tutti capace di rinnovare il mondo. Dall'udienza generale del 3 settembre 2008. La festa della conversione di San Paolo, già presente in Italia nel secolo VIII, entrò nel calendario romano sul finire del secolo X e conclude in modo significativo la settimana dell'unità dei cristiani, ricordando che non c'è vero ecumenismo senza conversione.